allora ieri con mia figlia che ha 11 anni siamo andati a vedere il film di checco zalone di cui si sta parlando tantissimo tolo tolo e vi devo dire che a me è piaciuto è piaciuto molto perché parla di argomenti molto importanti e psicologicamente rilevanti come quelli dell'integrazione dell'immigrazione delle nostre paure in una maniera bella ironica sarcastica ma senza mai sfociare né nella cattiveria e né nello schieramento politico rigido ora alcune considerazioni le voglio fare con voi rispetto a questo film anche perché qui ormai siamo arrivati ad un punto che sui social sul web bisogna per forza schierarsi infatti anche a checco zalone è stato contestato il fatto che non si è schierato abbastanza non si capisce se di destra se di sinistra si capisce sicuramente non è di destra questo film ma la cosa interessante è che con l'ironia possiamo mantenere e avere uno sguardo diciamo di insieme su quello che sta accadendo e l'ironia ci può aiutare a modificare il nostro punto di vista e secondo me questo film ci riesce bene per esempio nelle scene in cui lui deve rientrare in italia e trova praticamente i porti chiusi ma non solo ma la burocrazia soffocante tutta una serie di problematiche italiane che ci portiamo dietro quando invece arriva lì trova tutte le persone al porto con i cartelli andate via andate via quindi diciamo uno spostamento di focus di attenzione quello che secondo me checco zalone è riuscito a fare bene in questo film e darci la possibilità di riflettere di ragionare allora ho sentito delle polemiche sul web è ma questo film non far ridere ma grazie far ridere ma far ridere in una maniera diversa è come se tu vai a vedere il film la vita è bella di benigni che parla dell'olocausto e vuoi scompisciarti dalle risate anche i film di troisi tutti i grandi più grandi comici fanno ridere tra virgolette a volte a denti stretti perché ci mettono di fronte anche a noi stessi alle nostre schifezze alle cose che non ci piacciono di noi della nostra società quindi è chiaro che tu ridi ridi per non piangere e quando gli vengono quegli attacchi no di fascismo che il medico lo rassicura gli dice no guarda è tranquillo dentro di noi e tutti quanti sotto stress diventiamo intolleranti diventiamo così che contro gli altri e qual è l'antidoto l'antidoto è l'amore l'antidoto è volersi bene l'antidoto è riuscire a mettersi nei panni degli altri e questo è un messaggio interessante da un punto di vista psicologico che mi è piaciuto tanto un'altra cosa che ho apprezzato del film è proprio il fatto che attraverso una visione ironica ci dà la possibilità di decentrarci e questo psicologicamente è rilevante perché quando noi siamo fissi e rigidi all'interno di certe posizioni diventiamo seri e seriosi e invece se vogliamo vivere la vita in una maniera più ampia con maggiore respiro dobbiamo iniziare anche a ridere di noi stessi delle nostre debolezze a smettere di negarle a smettere di negare le nostre paure per vederle con un occhio più fresco più limpido e anche darci la possibilità di cambiamento grazie ad una nuova visione quindi io voglio ringraziare proprio che cozzalone per questa opportunità anche di crescita psicologica che sta dando a tante persone qualcuno ha criticato il film perché diceva beh ma è un po surreale e vabbè ma perché non è surreale la situazione che stiamo vivendo a livello politico sociale culturale economico qui nel nostro paese quindi non fa altro secondo me che metterci davanti in una maniera diciamo divertente quello che di fatto divertente potrebbe anche non essere considerato comunque andate a vedere il film se ancora non l'avete visto mettete qui sotto i vostri commenti ditemi che cosa ne pensate ditemi che cosa avete apprezzato di più di questo film e che cosa avete apprezzato di meno e vi voglio salutare con una bella frase di maurice escher che dice che solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile buona giornata buona vita